Il 7 agosto del 1935, un aereo italiano S-81, partito da Roma e diretto ad Asmara, precipitò in fiamme a 20 chilometri dal Cairo. Nell'incidente, oltre agli uomini dell'equipaggio, morirono Luigi Razza, ministro dei lavori pubblici, e l'esploratore Raimondo Franchetti. Sui giornali esteri si parlò apertamente di un attentato, ma chi era l'obiettivo disegnato? Il ministro Razza o Raimondo Franchetti? Luigi Razza, nato nel 1892 a Vibo, Valencia, che allora si chiamava Monteleone di Calabria, allo scoppio della Grande Guerra era partito volontario con il grado di sottotenente nella Brigata Volturno, guadagnandosi due croci di guerra al valore militare. Finita la guerra, era diventato redattore del giornale socialista Il Popolo. Successivamente aveva aderito al fascismo, diventando, dopo la marcia su Roma, membro del Gran Consiglio del Fascismo e del Consiglio Nazionale delle Corporazioni. Il professor Antonio Pantano da molti anni espone su pubblicazioni e trasmissioni radiofoniche la tesi dell'attentato e il padre del professor Pantano fu collaboratore di Luigi Razza. Luigi Razza era un sindacalista, laureato, uno dei pochi in quell'epoca che aveva un titolo di studio di quel genere, fu vicino a Mussolini per frequentazioni precedenti la Prima Guerra Mondiale, quando tutti e due si trovarono in Alto Adige e in quel momento il Trentino era sotto l'impero austriaco. Nacque un'amicizia, come sindacalista e uomo di cultura mantenne i rapporti con Mussolini e fu tra i fondatori del movimento fascista, collaboratore quindi dei giornali di Mussolini e compagnia bella conseguente. Da sindacalista fu nominato presidente della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura. Era un sindacato molto potente perché praticamente gestiva non solo i lavoratori ma le mutue di assistenza medica dei lavoratori dell'agricoltura. Nel 1929, per una strana serie di circostanze, chiamò a Roma a collaborare con sé in questo sindacato mio padre Edoardo Pantano, che veniva da Verona e nel 1929 aveva 27 anni. Lo mise a capo dell'ufficio statistica, ci fu una collaborazione notevole, intensa. L'ufficio statistica, che dirigeva mio padre, fu investito in ricerche che furono in competizione con l'Istituto Centrale di Statistica, proprio sulla condizione dei salariati e quindi dei braccianti agricoli in Italia. Uscì un testo, che ho qui, i salari nell'agricoltura dal 1913 al 1931, che fu pubblicato nel 1931, la prefazione di Luigi Razza e il testo è firmato da mio padre. È pieno però di grafici, provincia per provincia, con un grafico riassuntivo che spiegava che la condizione dei lavoratori agricoli era con parabola discendente, cioè in poche parole i lavoratori agricoli italiani sotto il regime fascista non ebbero una sorte favorevole, che invece toccò il settore dell'industria che era in grande sviluppo. Il libro addestò scalpore e scandalo, soprattutto presso alcuni maggiorenti fascisti, la fazione di Balbo ed altri e addirittura se ne chiese in forma ufficiale il sequestro e la distruzione del testo. Mussolini investito, parlando con Razza, siccome accertò che la ricerca era scientifica e aveva importanza proprio per risollevare le sorti di quel settore, non solo volle che il testo fosse salvato, ma addirittura si prendessero provvedimenti. I provvedimenti furono fulminei perché portarono alla grande campagna delle bonifiche, soprattutto la bonifica puntina, che appunto partì nel 1932, l'anno dopo l'uscita del libro. Il rapporto con Razza fu intenso, se non che a un certo punto Razza era deputato, fu nominato commissario per la realizzazione degli insediamenti colonici, cioè dei villaggi in Cerenica e Tripolitania, operazione che richiedeva un grande senso dell'organizzazione perché furono creati mi pare 70 mila insediamenti che costituivano centinaia di villaggi in quella zona. Nel 1935 Luigi Razza fu nominato Ministro dei Lavori Pubblici. De Felice, nella sua opera monumentale, non approfondisce la fine, la morte di Luigi Razza come non entra nel merito di quello che riguarda Raimondo Franchetti. Come mai un ministro dà un passaggio a un esploratore? Ho sentito raccontare da mio padre che in effetti questo terzetto andava alla Smara per poi arrivare in Etiopia per cercare di accattivare le simpatie di alcuni ras etiopi in vista di una possibile campagna militare di annessione dell'Etiopia all'Italia. Ovviamente nel 1935 Franchetti ritorna nella zona perché aveva grande dimestichezza con molti ras etiopi che dovevano essere poi maggiormente convinti, grazie al carico di talleri di Maria Teresa d'Austria, un grande carico di talleri era sull'aereo del Ministro Luigi Razza. L'operazione è alquanto misteriosa, ma si può dire senza tema di essere smettito che fu un'operazione che riuscì ai servizi segreti britannici in danno di questa attività politico-diplomatica che vedeva coinvolto non solo il regime fascista, il governo italiano. Luigi Razza. L'operazione è alquanto misteriosa, ma si può dire senza tema di essere smettito e non solo il regime fascista, ma si può dire senza tema di essere smettito o non solo il regime fascista, ma si può dire senza tema di essere smettito Grazie a tutti.